Siamo scesi in campo con un atteggiamento molto positivo e una squadra che meritava la vittoria. A parte l'occasione del gol del Cesena, è stata un'azione un pochino viziata, perché ho protestato anche vivacemente con l'arbitro, perché c'era fallo. Poi sono episodi che purtroppo adesso ci girano contro, non voglio assolutamente fare polemica, però in questo momento ci sta andando un pochino così, però dobbiamo rialzare la testa, continuare su questa strada e andare a Lanciano martedì e riprenderci quello che abbiamo perso fino ad oggi.